Matti Costruzioni, dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese, oggi siamo con il dottor Michele Grandi, futuro candidato sindaco dell'Italia del Rispetto. Si torna a parlare del problema che negli ultimi tempi ha coinvolto gli automobilisti pendolari che con la decisione di essere lunga di riservare il parcheggio ai propri clienti si sono ritrovati senza il posteggio auto che giornalmente utilizzavano per parcheggiare ovviamente il proprio mezzo. So che l'Italia del Rispetto in tal merito vuole fare una proposta all'amministrazione comunale. Innanzitutto, buongiorno e grazie a voi che siete sempre disponibili a dar voce a un movimento che è dalla parte dei cittadini. A noi interessano i problemi della gente. Sì, da quando legittimamente il supermercato S. Lunga ha riservato il parcheggio ai propri clienti si è posto il problema dei pendolari che non sanno più dove parcheggiare dovendo lasciare la macchina per tutta la giornata. Devo dire che io sono un po' anche coinvolto nel problema perché svolgo proprio l'attività di medico di medicina generale o proprio l'ambulatorio lì in Viale Montebello per cui conosco un po' le problematiche. In pratica l'amministrazione comunale ha detto mettiamo la zona disco nei parcheggi di via Meucci dove attualmente la sosta è libera. A noi non sembra la soluzione migliore perché chiaramente si limiterebbe la possibilità ai pendolari di parcheggiare. È un po', faccio un esempio, un po' come se un locale che ha problemi di capienza risolvesse i suoi problemi come anziché ampliarsi chiudendo le porte e dicendo alla gente voi state all'esterno tenendo conto che in questo caso, nel caso dei pendolari la gente non sono semplici avventori che possono andare in un altro locale ma sono persone che vanno a lavorare a Milano oppure nei paesi dell'Interland. E allora quale potrebbe essere la soluzione che noi Movimento Civico l'Italia del Rispetto proponiamo? Potenziare l'autoporto, cioè fare in modo che se ne usufruisca meglio. Qualcuno nell'amministrazione comunale ha detto che ci sono tanti posti liberi per cui la gente può parcheggiare lì. A questo punto chiediamoci, non è che forse le tariffe sono un po' troppo alte e quindi gravano sul bilancio familiare di studenti che non hanno reddito e di lavoratori, impiegati che dovendo lasciare la macchina lì per tanto tempo spenderebbero una cifra notevole con aggravio sul loro budget economico. Quindi utilizziamo l'autoporto ovviamente adeguando le tariffe quelle che sono un po' le esigenze di chi va a Milano o a Pavia per studiare o per lavorare. Quindi per voi potenziare l'autoporto significa diminuire le tariffe e renderle un attimino più agevolate per i cittadini. Certamente, ecco noi proponiamo questa soluzione. Tra l'altro faccio notare che insomma non è un problema che coinvolge esclusivamente i vogheresi ma anche i cittadini dei comuni, i limitrofi che comunque ovviamente hanno la stazione di Voghera come punto di riferimento per salire sul treno e andare a lavorare ovviamente magari a Milano e non solo a Milano a questo punto. Questo noto che si sposa un pochino con la filosofia recente dell'Italia del rispetto di voler in futuro tenere in considerazione le problematiche anche degli altri comuni eventualmente per un futuro impegno politico, no? Certamente, ecco non è assolutamente un problema che riguarda solo Voghera. Io ho molti amici che abitano nei paesi circostanti e che mi dicono abbiamo difficoltà. Per cui l'Italia del rispetto è aperta anche a queste esigenze, a queste istanze. Anzi, noi vogliamo nell'ottica di un futuro coinvolgimento nei paesi limitrofi portare all'attenzione dell'amministrazione di Voghera per il problema di Voghera anche queste istanze di cittadini che non sono di Voghera, che comunque sono cittadini che usufruiscono dei parcheggi, che devono usufruire dei parcheggi. Grazie mille. Grazie a voi.